Nord Com'avano i fagliabili? Ricci Bene 15 euro No Sud Ma Rosigno mi ha uscito così nella mente Ma guardate quei capelli Ma che senso è vero che mi dico così Occhi e vaccinati alla pressa Mersi dopo nella comisola Dopo, prima di fare il shampoo Mettetevi un posto in un cavo Senti, vieni a chiazzare No, il telefono Ok A posto Ciao Ciao Ma no Non ci buttare i sold